buongiorno, benvenuti nel vlogmas numero 12 c'è un po' di buio perché sono in camera da letto e sto facendo la colazione che già mi ho portato ve la faccio vedere stamattina colazione un pochino diversa perché le vasa rimangono una costante ma oggi nella ricotta c'è la cioccolata quindi 9 ricotta buonissima ora la spalmo, me la mangio tutta e poi iniziamo la giornata con il piede giusto allora sono appena tornata dal lavoro, perdonatemi oggi ma davvero è stata una giornata full e purtroppo vabbè il vlog sarà un pochino corto, stasera andiamo a mangiare dalla via di Gio e adesso vi faccio vedere che cosa sto preparando per domani domani, cioè stanotte arrivo a Santa Lucia e noi abbiamo la tradizione di appendere le calze che sarebbero le calze della Befana o le calze di Babbo Natale, chiamatele come volete le ho comprate all'IKEA guardate che belle sono troppo carine, sono belle grandi ho comprato delle cose per riempirla a Gio, lui poi la riempirà a me spero e domani poi vi facciamo vedere cosa abbiamo trovato però io visto che tanto poi quando vi vedo la video domani avrò già trovato tutto vi faccio vedere che cosa ho comprato per riempire la sua con la presenza del mio special guest Mirtillo vi faccio vedere che cosa gli ho preso allora ho scelto degli after 8 perché lui li ama sono probabilmente l'unico cioccolatino che lui ama davvero perché poi in generale non è un amante della cioccolata quanto potrei esserlo io poi gli ho preso i canestrini del mulino bianco che piacciono anche a me ma a lui un sacco di più e lui ama i biscotti ho preso gli skittles che piacciono un sacco a Mirtillo e poi ho preso una bella manciata di Raffaello per completare l'opera Mirtillo che ne dici piacerà al papà tutto questo? e quindi qui c'è la mia oh un altro Raffaello qui c'è la calza di Gio e qui c'è la mia calza e non vedo l'ora di appenderle ovviamente non mi sono dimenticata comunque di concludere la giornata con il nostro meraviglioso calendario dell'avvento super healthy super healthy ovvero la nostra artesana dell'avvento apriamo e vediamo che cosa c'è oggi oggi lo faccio vedere a voi prima di me di che colore è? sono curiosissima sarà quello giusto? speriamo di sì allora il mio trullo di tamburi allora topolino che acchiappa il sole ginger sun spice herbal tea vediamo un pochino gli ingredienti di questa tisana di oggi tisana, zenzero, sole ci sono impegnati ingredienti zenzero, citronella, buccia d'arancia, cannella cardamomo, liquirizia melissa, fiori di rosa e fiori di girasole allora mi piace molto come idea la liquirizia non troppo quindi speriamo perché lo sbatto? sembra che sia zucchero la liquirizia non troppo oggi vi dicevo è stata una giornata intensissima e sono andata con il bimbo che che seguo e la sua mamma in un negozio grandissimo di giocattoli per due motivi prima che lui ogni volta che gli si chiede qualcosa a prescindere dal fatto che siano regali o altro dice sempre che è un segreto e quindi ad esempio la mamma ha cercato di capire che cosa gli potesse piacere per Santa Lucia e la risposta era è un segreto è un segreto è un segreto quindi siamo andati insieme nel negozio dei giocattoli che lui chiama la casa dei giocattoli per vedere un pochino che cosa che cosa c'era cosa gli piaceva eccetera abbiamo trovato parecchie cose sperando che Santa Lucia si ricordi tutto e gli porti qualsiasi cosa e voi avete fatto tutti la letterina per Santa Lucia io quando ero piccolina Santa Lucia era tipo il must cioè altro che Babbo Natale girl power sempre infatti la mia calza per giù è già pronta e l'ho messa lì sulla libreria perché purtroppo in questa casa i muri sono davvero di cartone quindi appendere le cose potrebbe essere parecchio rischioso quindi l'ho semplicemente appoggiata e ho messo la mia calza sulla sua scrivania sperando che sia un bel segnale per forza e sono sicura che rimarrà stupito perché solitamente si aspetta che io gli prenda se gli after 8 forse se li aspetta anche e probabilmente si aspetta cose tipo aribo insomma caramelle gommose perché io so che a lui piacciono tanto invece quest'anno ho cercato di stupirlo gli skittles non li ho mai 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 presi i canestrini so che gli piacciono anche poi io ho sempre chiamato canestrelli ma va bene so che gli piacciono soprattutto perché lui è una di quelle persone che al cioccolato preferisce il biscottino quindi spesso mi chiede di fargli i cookies e quelle cose lì e io a volte glieli faccio a volte a volte no cerco di tenerlo un pochino a bada perché ha delle crisi di zucchero esagerate però questi glieli dovevo troppo prendere poi era un pacchettino piccolino lui a volte a colazione non vuole niente ma poi a metà mattina o magari a metà pomeriggio quando inizia a fare un po' fresco si beve volentieri dei tè delle tisane e ci puccia i biscottini oppure se li beve con un succo di frutta insomma come bambino e quindi sono sicura che sarà assolutamente stupito dalla mia calza di quest'anno io non so assolutamente che cosa lui metterà nella mia calza perché ad esempio quest'anno essendo che sono a dieta e ci sono seriamente nel senso che mi sto impegnando mi piace e non ho granché voglia di sgarrare domani ho tenuto la giornata libera a domani e quindi sicuramente a pranzo ordineremo danno dal sessushi che praticamente è un take away qui a Parma che mi piace un sacco e domani essendo a pranzo ve lo faccio assolutamente vedere io prenderò praticamente frittura quindi prenderò probabilmente i gamberi le crocchette di patate può essere che io prenderò anche il pane fritto insomma tutto ciò di cui ho voglia durante le settimane lo accumulo e mi faccio un pasto domani sgarreremo un pochino e oltre a quello ci sarà anche un piccolo assaggio della calza se Gio è stato furbo mi ha comprato tipo 5.000 confezioni di novi perché quella la posso mangiare in realtà tutti i giorni quindi non è un grande sgarro ed è un regalo molto utile anche se vi dirò da quando ho iniziato questa dieta è cambiato proprio il mio modo di pensare e quindi sono molto più mi viene da dire brava ma non è brava sono molto più attenta e quindi non sgarro a caso nel senso non mi viene voglia durante il giorno di mangiare schifezze a caso patatine dopo cena con gli spuntini e i pasti comunque ben regolati mi trovo molto molto bene ora ho scaldato per due minuti e mezzo quest'acqua in microonde ed è assolutamente imbevibile quindi adesso l'annuso si sente lo zenzero però si sente molto di più la citronella non riuscirò mai ad assaggiarla proviamo cioè vi rendete conto? ok credo di essermi uspionata la bocca va bene mi sa che oggi niente assaggio comunque in linea di massima mi piace l'odore è molto gradevole lo zenzero mi piace ah e domani essendo Santa Lucia devo decidere se farlo domani o se farlo più avanti se mi è decisa se farlo verso Natale perché abbiamo comprato il kit per fare i biscottini di pan di zenzero mi sa che domani no li faremo verso Natale quindi nei giorni diciamo dal 20 in poi la settimana prossima ragazzi non manca molto purtroppo siamo ormai arrivati e faremo i biscottini dai sì così li decoriamo insieme e entriamo ancora di più nel mood di Natale perché adesso siamo ancora un pochino troppo lontani per me anche se a fine settimana no fine settimana la settimana prossima inizio settimana prossima partiremo per il nostro viaggetto ancora nessuno mi ha dato le opzioni secondo me potreste indovinarlo e chi lo sa magari per il vincitore c'è un premio no non è vero non c'è un premio non ce lo faccio prendervi in giro però mi piacerebbe vedere che cosa pensate cioè dove pensate che potremmo andare vi dico solo che ci saranno lì i mercatini di Natale cioè in tutte le città d'Italia ci saranno i mercatini di Natale ma lì ce ne sono di bellissimi quindi mi raccomando scriveteli nei commenti dove pensate che andremo in vacanza per questi tre giorni io vi lascio perché il vlog diciamo di oggi è stato breve ma sono parecchio sfinita vi faccio vedere che cosa ha preso Gioia l'IKEA ieri mi ho approfittato perché l'ho visto allora lui mi ha detto che per Natale ha bisogno di pacchettini piccoli e l'IKEA c'era scontato questo ovvero il set delle bustine che praticamente IKEA ha fatto con i numeri per fare il calendario fai da te dell'avvento quindi praticamente voi semplicemente le potete appendere è un'idea molto molto carina e visto che aveva bisogno io spero che mi abbia regalato un sacco di tart della Yankee Candle perché quelle starebbero benissimo in questi pacchettini piccoli comunque aveva bisogno dei pacchettini piccoli e io sinceramente non credo che ne usufruirò però sono molto simpatiche quindi se vi interessa e dovessero interessarvi se vi interessa dovessero interessarvi dovessero piacervi ne avreste voglia oddio mi sto impapinando tantissimo se vi interessano sono da IKEA potete prenderle e giocheranno qui ve le ho fatte vedere vi mando un bacione grandissimo ora aspetto che arrivi giù poi ci prepariamo usciamo un attimo facciamo un giro all'ipertop perché devo andare a comprare le crocchette specifiche per birtillo e tra l'altro i gattoni vi mandano un bacione una leccatina perché loro leccano un sacco ci leccano tra di loro si lavano lavano noi ormai siamo diventate una grande famiglia leccerebbero anche le tartarughe ma non credo che andrebbe a finire molto bene e dopo andiamo a cena da zia a domani ciao